Le temperature roventi e le notti tropicali di queste ultime settimane forse riusciremo a lasciarceli alle spalle a partire dal weekend. Secondo le previsioni di Arezzo Meteo, il cambio arriverà proprio nel fine settimana, dopo giorni in cui anche nell'Aretino si sono superati i 39 gradi. I giorni più bollenti il 10 e l'11 di agosto. A Poppi è stata infranta la soglia dei 40 gradi con 41, Montevarchi ha registrato 39,9 gradi, Castiglion-Fibocchi 39,6, Cortona 39,2, Chiani 39, Arezzo 38,2. Fra domenica e lunedì, spiegano gli esperti di Arezzo Meteo, la penisola sarà raggiunta da un cavo d'onda atlantico, facilitato nel suo cammino dal fatto che il campo di alta pressione sarà minato dalla depressione descritta in precedenza. La situazione sembra un po' meno drastica rispetto a quello visto ieri, ma potenzialmente pericolosa, poiché con mari a 30 gradi basta davvero poco per generare fenomeni temporaleschi di un certo rilievo. Quello che sarà piuttosto certo è il calo termico che ci riporterà entro valori più consone alla stagione, anche temporaneamente sotto le medie.